Ben ritrovati da Pasqualino Lettura per un nuovo appuntamento con i giornali in tv come sempre iniziamo con le prime pagine dei quotidiani regionali oggi in edicola abbiamo la prima pagina di Gazzetta del Sud regione ora i fatti dopo gli annunci scrive Gazzetta del Sud ho chiuto il 2023 già realizzate alcune riforme tre però le vere sfide da vincere sanità occupazione e grandi opere il governatore non mi candido alle europee dice Roberto occhiuto voglio lavorare in Calabria e poi ancora in alto su Gazzetta Farguesta a Ciro condannati tutti gli imputati poi bancarotta arrestato imprenditore inchiesta della guardia di finanza di Catanzaro ai domiciliari Natale Figorilli che è il titolare di un istituto di vigilanza di stati oltre 3 milioni di euro per acquistare auto e orologi. Poi ancora Camera di Commercio e Centro Studi Tagliacarne di Catanzaro appunto questa iniziativa della Camera di Commercio Area Centrale ha tenuto un incontro sull'economia che secondo la Camera di Commercio di Catanzaro e l'istituto Tagliacarne l'economia dà segni di vitalità. Alla mezza terme la maggioranza diserte il Consiglio Comunale quindi c'è il Consiglio Comunale che va in seconda convocazione, bisogna appunto votare la variazione di bilancio e le società partecipate. A Crotone, Crisi, Abramo, Cheir proclamati due giorni di sciopero. La Corte di Cassazione a segno di divorzio alla convivenza prima delle nozze va messa nel conto, dice la Corte di Cassazione. Poi abbiamo anche notizie di respiro nazionale sulla prima di Gazzetta del Sud. PNRR avanti tutta, MES avanti pianissimo. Ok i 52 obiettivi e il governo può chiedere a Bruxelles la quinta rata prevista dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Nuovo rinvio invece per il meccanismo di stabilità, opposizioni indignate, la crisi energetica, proroga di un anno per il tetto dell'Unione Europea al prezzo del gas, Ferragni dal pandoro alle uova di Pasqua. Altre analoghe accuse ai PM il fascicolo sul caso del pandoro griffato balocco, i cui fondi dovevano andare in beneficenza ma in realtà non sono andati in beneficenza. Ergastolo ai genitori di Saman, allo zio 14 anni, assolto i cugini, la 18enne uccise in Mila Romagna perché ribelle. Era in attesa del secondo figlio, colpita a morte da uno stalker trevigiana, sette coltellate al torace, quindi è morta un'altra donna, Vanessa Ballanna, un'altra donna vittima di femminicidio. E ancora sulla prima di Gazzetta del Sud parliamo della, si legge, si fa riferimento anche alla guerra in Medio Oriente, l'ONU a Tel Aviv, troppo cinismo, dallo Yemen intanto minacce globali. Questo era sulla prima di Gazzetta del Sud con cui abbiamo iniziato il nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv. E ancora all'interno delle pagine, a braccetto le riforme costituzionali, autonomia è premierato in aula, slitta il sì alla nuova IRPEF a tre aliquote, irrampa la riforma dei giochi online, chiuso un altro cerco sul PNRR, l'Italia chiede la quinta rata, il governo prende tempo sul MES, alle opposizioni non resta che l'IRA, scrive il quotidiano Gazzetta del Sud. Partite e film gratis, 50.000 utenti illegali in 12 città italiane, inchiesta della procura di Catania, sono le 21 le persone indagate, anche a Cosenza, perquisizione e sequestri, quindi utenze illegali delle piattaforme private a pagamento. C'è stata un'inchiesta della procura di Catania contro la pirateria televisiva. L'associazione a delinquere trans nazionale avrebbe avuto profitti mensili per 6 milioni di euro, scrive Gazzetta del Sud. C'è stato un omicidio a Bari, è stato freddato un fisioterapista, scrive Gazzetta del Sud e ancora andiamo all'interno delle pagine di Gazzetta del Sud, come sempre dopo le notizie di respiro nazionale. All'interno, dopo aver letto la prima pagina, andiamo a vedere gli approfondimenti che riguardano le notizie dalla Calabria su Gazzetta del Sud. Ho chiuto al giro di Boa, ora la fase 2, la priorità a sanità e infrastrutture, la scommessa dei nuovi ospedali di Sibariti del Vibo prima del 2026, A2, strada statale 106 dal modernare, la sfida del lavoro e il nodo tirocinanti. Poi le piste di Camigliatello e Lorica non sono innevate, ma gli impianti apriranno a breve. La Sila è pronta ad accogliere i turisti. A Cosenza, imprese sott'assedio, insorge Confindustria per le numerose intimidazioni contro imprese. Ferrari e Rolex, mentre l'azienda falliva. L'imprenditore in tre anni avrebbe prelevato dai conti della società oltre 3 milioni e mezzo di euro, la Guardia di Finanza ha arrestato Natale Figorilli, amministratore dell'Istituto di Vigilanza. Per il inflitto e condanna a tutti gli imputati del Farguest a Ciron Marina. Questa è un'altra notizia. Poi Calabria Centrale, segnali di crescita, dice il report di Camera di Commercio e Istituto Tagliacarne. Sulle economie delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo, Valencia. E ancora su Gioia Tauro, potenziare il dispositivo del soccorso nella Piana, l'appello della Will Vigili del Fuoco. L'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiana d'Italia, a Rizzicone, ricorda gli 80 anni della strage di Rizzicone. Ancora andiamo alle pagine di Catanzaro, di Gazzetta del Sud. Il panettone che non deve mancare quest'anno lo preparano i detenuti, iniziativa di Camera Penale, Carcere di Siano e la Cop Mani in Libertà. Poi leggiamo sempre su Gazzetta del Sud. Andiamo alla mezza, come abbiamo detto, Consiglio Comunale deserto come da copione, la maggioranza schiera un solo consigliere, tra i banchi solo Saladini, tra l'altro Saladini è rotta con la maggioranza, e cinque esponenti di opposizione. Manca il numero legale seduta aggiornata, appunto, alla seconda convocazione. Questo era sul quotidiano Gazzetta del Sud, quindi ancora una volta la prima convocazione va, diciamo, va deserta perché non ci sono appunto, c'è stato appunto il numero legale, quindi si va alla seconda convocazione. All'ordine del giorno la razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune, ma anche la variazione di bilancio. Una messa di Natale dedicata al lavoro e carità, il vescovo nell'area industriale di Lamezia, un confronto sui decenni dell'era Speranza, c'è un incontro organizzato dall'ex sindaco, interverranno anche consiglieri comunali del periodo che va dal 2005 al 2015, i nonni abbracciano i piccoli degenti in pediatria, l'iniziativa dei volontari dell'associazione senza nodi. Poi a Motta Santa Lucia, fede e condivisione, Motta Santa Lucia onora la sua patrona, poi la zeppolata natalizia spopola a Iacurso, a San Pietro a Maida, sarà un Natale da ricordare, grande intrattenimento non solo per i più piccoli. Poi sempre a San Pietro a Maida, screening, un'arma contro i tumori, giornata di prevenzione sul cancro al seno, poi a Martirano, Babbo Natale, consegna i regali ai bimbi del borgo di Martirano. Poi la mensa di Padre Pio Rifugio per i nuovi poveri della città di Crotone, Vibo Valencia, la rinascita di Vibo che ha scelto da che parte stare, l'invito alla fiducia rivolto agli studenti dal procuratore Falvo premiato con l'operatore d'oro. Rigenerazione urbana a Vibo a confronto sui lavori, sotto la lente, i parcheggi in piazza. Il commercio in ginocchio a Vibo, l'appello acquistate nei quartieri. A Filadelfio, quindi siamo in provincia di Vibo, tra 16 mesi la casa di comunità ha consegnato i lavori. Il caso Nicotera al vaglio dell'Asp si riparte da ambulatori e nomine, poi a Tropea prende forma la messa in sicurezza per le opere del centro storico, soprattutto per la rupe di Tropea, lo scoglio che finisce a mare, quindi ci sono lavori per quanto riguarda la messa in sicurezza a Tropea. Questo era su Gazzetta del Sud. Andiamo ora al Quotidiano del Sud, l'urlo della Calabria interna. Dateci strade e ferrovie, scrive il Quotidiano del Sud. Calabria interrotta. A Soveria Mannelli, binari interrotti da 15 anni. È una superstrada attesa dall'88. Nel Savuto non si riesce a ripristinare un ponticello e le distanze aumentano. Sanità, il DG Lombardo per guidare Azienda Zero da febbraio. Vibo Valencia imitava solo un film d'aspo sospeso a un ultra della Vibonese. Occhiuto, abbiamo cambiato il racconto della Calabria. Teatro Cilea in festa per i suoi semidei a Reggio Calabria. Blocca i lavori in una scuola del Catanzarese, ma nel frattempo riceve un'interdittiva. Il caso di un imprenditore indagato per turbativa d'asta che aveva ottenuto lo stop all'azienda concorrente. Poi Catanzaro, alle urne per rinnovare il consiglio provinciale di Catanzaro, Reggio Calabria, alla guilla riparta da Giuseppe Rizzo, eletto segretario Vibo Valencia, piscina comunale, progetto esecutivo già trasmesso alla regione. A Crotone, lavoratori a Bramo in sciopero, chiesto un incontro al governo. A Crotone, sempre capodanno Rai, conto alla rovescia, la città brillerà sotto i riflettori. E poi Catanzaro, arrestato dalla finanza, anche qui per bancarotte e autoreciclaggio, un imprenditore. Poi il Calabria centrale, l'economia mostra segnali di crescita, la vetrina, i tirocinanti pronti a un nuovo sitin, i tirocinanti calabresi. Poi all'interno delle pagine del quotidiano del sud, la Russia ha fallito ma adesso ci servono 500.000 uomini, dice il presidente ucraino Zelensky. E poi da Mosca, Putin, non rinunceremo agli obiettivi. Il messaggio di Putin per l'Occidente, questo era sul quotidiano del sud, a proposito delle guerre. Allora, Soveria Mannelli scrive il quotidiano del sud, dove si fa impresa senza strade né ferrovie. Qui si attende la superstrada del medio saputo dal 1988, quindi scrive il quotidiano del sud. Poi Limina, Gallerie della Limina, l'ANAS interverrà a breve per la messa in sicurezza. E poi dalla Lombardia un nuovo manager per azienda zero, il veneto Giovanni Pavesi, emulava solo un film. Il DASPO è stato sospeso a un ultra della Vibonese, il taracolto e ricorso. La pellicola in questione è Ultras del 2020. Infatti questo tifoso della Vibonese aveva, era stato destinato a del DASPO in occasione del derby Vibonese La Mezzia, questo scrive il quotidiano del sud. Insomma, gli era stato inflitto il DASPO a questo Ultras della Vibonese in occasione della partita dell'anno scorso, del 18 ottobre scorso, valevole per la Coppa Italia. Poi appunto questo tifoso ultra della Vibonese si era reso promotore di cori offensivi e oltreggiosi nei confronti delle forze di polizia. Da qui arriva poi il DASPO, appunto. DASPO che ora è stato sospeso a quest'ultra perché ha dimostrato che quella era solo quella dimostrazione contro le forze lordi era un'emulazione, una imitazione del film, di un film intitolato Ultras, un film del 2020. A Selia Marina un indagato perturbativo blocca i lavori, ma il Consiglio di Stato sospende l'aggiudicazione su istanze della ditta di un interdetto. Il cantiere della scuola affidato a un imprenditore crotonese coinvolto nell'operazione Glicin a Catanzaro, come dicevamo, è stato arrestato per bancarotta autoriciclaggio un imprenditore. Poi call center Abramo, due giorni di sciopero contro la cassa integrazione a zero ore. Poi andiamo sempre sul quotidiano, Catanzaro si rinnova, il consiglio provinciale, urna aperte alla provincia di Catanzaro, sei le liste in campo. Poi andiamo alla Mezzia, istituti strapieni, altri distrutti. Si parla del piano di dimensionamento scolastico approvato anche dalla regione dopo la provincia di Catanzaro. Rabbia e malcontento, in particolare a Santa Eufemia, sul rafforzamento dell'Istituto Perri Pitagora che ora ha quasi 2000 alunni, avrebbe inciso la visita del ministro leghista Valditara che è stato appunto all'Istituto Perri Pitagora. Poi una messa per imprese e lavoratori e una visita al centro Protesi Nail, quarta edizione di Natale insieme per lavoro e carità con il vescovo Monsignor Parisi. A proposito di vescovo, ad Adrano, in provincia di Catare, è stato presentato il libro di Monsignor Giuseppe Schillaci, già vescovo della diocesi di Lamezzia Terme. La presenza a Lamezzia di Monsignor Schillaci non sarà dimenticata, scrive il Quotidiano del Sud. Luigi Strangis, il cantante lamettino, è stato ospita a Radio 2 tra il nuovo singolo e le battute sulla città di Lamezzia. Il vincitore si è esibito, il vincitore di Amici 2022. È stato presentato l'ultimo suo singolo, stupida libertà. Dal comune annunciano che c'è la proroga dei termini per ritire l'attivazione della carta dedicata a te per appunto il buono spesa da 382 euro, quindi si può ancora ritirare al comune di Lamezzia. C'è un platanese, Gino Vaccaro, che è consigliere comunale a San Luca. Vaccaro evita lo scioglimento del consiglio comunale, sarebbe stato l'ennesimo scioglimento del consiglio comunale di San Luca. Il platanese Gino Vaccaro è rimasto in aula consentendo l'approvazione del bilancio del comune di San Luca. Mi sono candidato per riportare la democrazia dopo tanto commissariamento. A conflenti, servizi pubblici e cittadinanza digitale, il comune ottiene un finanziamento, informatizzazione della macchina amministrativa comunale. A Crotoni i lavoratori dell'Abramo call center sono in sciopero contro la cassa integrazione a zero ore. A Vibo Valencia un nome terzo oppure tutti da solo. Da soli le parole di Giuseppe Conte calzano a pennello sulla situazione vibonese. Il leader del Movimento 5 Stelle parla delle amministrative del rapporto col PD, quindi comunali del 2024 a Vibo. Il centro-sinistra non riesce a trovare la quadra, insomma una sintesi, non riesce a rimanere unito. Poi voi sconfiggerete l'andrangheta, dice il procuratore di Vibo, Falvo, che è stato in una scuola. Poi Prefettura, oltre 40 anni al servizio dello Stato, va in pensione. Una memoria storica della Prefettura come Maria Rosaria Luzza. A Tropea, prevista la messa in sicurezza del centro storico di Tropea e della Rupe, come avevamo letto anche sulle pagine di Gazzetta del Sud. Anche il Quotidiano riporta questa notizia. La città di Crotone brillerà sotto i riflettori, quindi si parla del Capodanno Rai a Crotone. E ancora sul Quotidiano del Sud il teatro cilea di Reggio Calabria in festa per i suoi semidei. Prima proiezione al reggio del docufilm con i registi Mollo e Cataleta. E poi un docufilm che è un racconto totale sulla Calabria. Per Mollo e Cataleta i bronzi sono il filo invisibile su cui costruire anche la narrazione dell'attualità, scrive il Quotidiano del Sud. Ci torneremo tra poco sia per lo sport, sia sul Quotidiano del Sud che su Gazzetta del Sud. Ora andiamo a dare come sempre anche un rapido sguardo ai principali titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Leggiamo dunque le prime pagine, i titoli principali almeno. Su Corriere della Sera, Spiragli di Tregua, Gaza, La Repubblica, Stampa, Ritorna il Bavaglio. Quindi si sta approvando una legge che prevede la non pubblicazione, almeno fino all'udienza preliminare, di atti di ordinanza di custodia catelare, di vetto di pubblicazione ovviamente ai giornalisti. Poi la stampa, patto di stabilità, c'è l'accordo, la Ferragni dalle uova d'oro, la beneficenza finita in lacrime sul libero, il giornale, patto, blitz con l'Italia, il fatto quotidiano, Crosetto il padrone di casa, ecco tutti i conflitti di interesse. Su il tempo, stato alleato di chi produce, la verità, le uova rotte dei Ferragnez, il messaggero, ricette mediche licenze, arriva la semplificazione, poi andiamo al sole 24 ore, super bonus, punta decreto, salva spese, via libera al nuovo calendario fiscale. Domani Crosetto, la casa e gli affari dell'amico per Saladino, milioni dalla difesa, dal ministro della difesa. E poi andiamo sull'unità, l'allarme bloccato per 4 ore, così hanno lasciato affogare 61 persone, poi andiamo sul gazzettino, esaltava i terroristi islamici e uno studente modello Albo, Vanessa perseguitata e uccisa, quindi l'ennesimo femminicidio. Il riformista Toro sedato, Lotito soccombe, le agevolazioni ai calciatori definitivamente esclusse dalla bozza, il manifesto Italia, un altro anno di armi all'Ucraina, il mattino via libera alle semplificazioni, il dubbio vince l'asse costa forza Italia, vietato pubblicare le ordinanze di arresto, poi sul resto del Carlino non solo Ferragni, il caso influencer. I crimini di Tripoli, scrive l'avvenire, il secolo XIX, Conti Unione Europea, Patto Parigi-Berlino, la notizia ottobre rosso per la Menoli, CGL, 5 Stelle e PD riportano in piazza l'Italia, umiliata dal governo, ancora sul quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, il rosario delle marchette del Parlamento, questo era appunto sui principali titoli dei quotidiani nazionali. Oggi ne dico, andiamo allo sport, la gazzetta dello sport, appunto come primo giornale, Napoli, 4 sberle, incredibile, Napoli perde in casa per 4-0 agli ottavi di finale della Coppa Italia contro il Frosinone, poi il Napoli crolla, festa Frosinone, Napoli 0, Frosinone 4 al Maradona, arbitri e varie, crisi del settimo anno, corsa all'oro, Champions, Chebaraonda, 5 squadre italiane nello spazio di 3 punti, punti appunto validi per poi essere qualificate alla Champions. Su tutto sport, questa è Furia Scudetto, Alleghi paga 10.000 euro di multa per le urla contro arbitro e var. Storico Frosinone, Napoli shock, ancora sul quotidiano sportivo, Inter Bologna e la Coppa dei Grandi Ex, scrive il quotidiano sportivo. Andiamo allo sport del quotidiano del sud, Ducatanzaro, l'ultima fu 40 anni fa, contro il Brescia la vittoria del Gelo Rosso al Ceravolo manca da troppo tempo, con 40 anni. Poi Serie B, Cosenza, 1.200 cuori al San Nicola di Bari, quindi Cosenza che va in trasferta a Bari. In Serie C il Crotone mantiene l'entusiasmo, lo dice l'attaccante Gomez, quindi parliamo di Serie C. Un solo obiettivo per Reggio Calabria, al Granillo c'è da parte della propria squadra. Poi Gioia Tauro, derby dall'esito scontato, i lupi del Polino pronti a conquistare il primo successo. La Gioiese deve solo evitare la goleata contro il Castorvi Gioiese che sta giocando con la Juniores. La Vibonese senza Convitto, ormai c'è l'accordo con il Trapani, quindi Convitto dovrebbe passare al Trapani. Il San Luca invece a Roccella cerca solo i tre punti. Questa è la Serie D Gironei che fa questo turno infrasettimanale in vista appunto dello stop poi per le festività natalizie. Andiamo ora allo sport di Gazzetta del Sud. Come sempre con lo sport arriviamo sempre alla conclusione del nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv. Il Cosenza all'incrocio con l'ex Nasti, bomber dai pochi gol ma importanti. San Biasse, eccellenza calabrese, un primato con numeri da record. La squadra di Morelli ha più 9 con il miglior attacco e la difesa meno battuta, oltre che essere capolista. Serie C, Crotone, la fiducia di Felipe, Crotone in crescita. Catanzaro, quindi Serie B, scelte obbligate in attacco con gli ML e Donnarumma fuori, Gioiese e Castrovigliari si salvi chi può, parliamo di Serie D. Via vai Vibonese, arrivano Puche e Casalongue, mentre appunto è stato ufficializzato il passaggio di Convitto al Trapani, attaccante della Vibonese passa al Trapani, scrive Gazzetta del Sud, arriverà una forte punta però per la Vibonese. Reggio Calabria va all'assalto dell'Igea Vilcuso per ottenere la quarta vittoria consecutiva. Basket Serie B interregionale, Viola, Viola Reggio Calabria, match che vale doppio con la temibile Sala Consilina. Un altro balzo in avanti per la Royal Team Lamezia, Calcio a 5 Serie A, quindi la Royal Team Lamezia ha ottenuto un'altra vittoria battendo al fotofinish il Pelletterie, quindi questa è sicuramente una vittoria importante. È la seconda vittoria consecutiva della Royal Team Lamezia nel campionato di Calcio a 5 Serie a femminile. Pallavolo, Serie C maschile, Lamettini scavalcati dalla Spespraia, Tonfo, Volovirtus, Paola al comando. E per concludere con lo sport, torniamo al quotidiano del Sud, per leggere quest'altra notizia che riguarda Lamezia, 10 nuovi arbitri di calcio in organico alla sezione Associazione Italiana Arbitri di Calcio di Lamezia Terme. Si è concluso appunto il corso della sezione Lamettina dell'AE. C'è anche una ragazza in questi 19 arbitri di calcio e un ragazzo che ha scelto di tesserarsi grazie alla possibilità del doppio tesseramento fornito dalla FIGC. Quindi in bocca al lupo a questi 10 nuovi arbitri di calcio che hanno superato il corso alla sezione Lamettina dell'Associazione Italiana Arbitri di Calcio. Bene, come sempre con lo sport siamo arrivati alla conclusione anche di questo nuovo appuntamento con i giornali TV. Ogni giorno sui canali 94 e 98 del digitale terrestre di STV, vi ricordo gli orari alle 14, poi le repliche delle 20 e delle 7.30 del giorno dopo, del mattino. Vi ricordo comunque che potete anche seguirci sui nostri canali social, quindi casomai vedete qualche puntata in TV, potete poi rivederla sulla pagina Facebook di STV, ma anche sulla nostra piattaforma YouTube. Quindi come sempre è tutto anche per quest'oggi, come sempre abbiamo iniziato con Gazzetta del Sud, il quotidiano, la prima pagina, gli approfondimenti, le notizie sia di respiro regionale che nazionale, poi abbiamo visto i titoli principali delle prime pagine dei quotidiani nazionali e poi come sempre abbiamo concluso il nostro appuntamento con lo sport. È tutto da Pasconi Orettura, grazie per averci seguito fin qui con i giornali in TV. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione.